Allora, buongiorno, siamo con il Presidente Pietro Spirito, Presidente dell'Autorità di Napoli, Salerno e Castellammare. Vorremmo fare un bilancio con lei di questi primi quattro anni. Quali sono per lei le iniziative che lei hanno avuto tra i successi, quali sono invece le difficoltà che lei ha trovato e perché? Io direi che intanto sono ripartiti i lavori infrastrutturali che da tempo erano abbastanza fermi. È stata collaudata la colmata della Dazia di Levante a Napoli che ha consentito poi di realizzare i dragaggi nel porto di Napoli. Poi sono per essere conclusi anche, e finiranno a marzo del 2021, i lavori dei dragaggi nel porto di Salerno. E sono ripartiti tutta una serie di cantieri importanti, che sono i collegamenti stradali e autostradali sia a Napoli sia a Salerno, che sono molto rilevanti per ridurre il grado di congestione all'interno dei porti. Quindi è partito l'allungamento del molo di sovrasfrutto a Salerno e si è conclusa la progettazione dell'allungamento del molo di sovrasfrutto anche a Napoli, che poi sarà ovviamente realizzato. Quindi una serie di lavori che serviranno a migliorare la competitività dei porti, oltre che alcuni lavori di riqualificazione, qui vorrei ricordare il completamento ormai, giunto al termine, del risanamento dell'edificio di Macorre della Vecchia nel porto di Napoli. No, scusi, perché proprio su questo vorrei chiederle, il waterfront del porto di Napoli è un'area di grande interesse, interesse anche per la città, interesse per lo sviluppo e l'integrazione del porto con la città, perché questo è un tema sempre all'attenzione sua e anche degli stakeholder del porto di Napoli, delle istituzioni. Lei diceva prima, a breve si termineranno i lavori dell'Immacolatella, però dobbiamo dirlo, sono partiti i lavori per la stazione marittima al Beverello, su questo le vorrei chiedere più o meno i tempi. E poi un'altra cosa importante, pochi mesi fa, grazie a uno stanziamento del ministro delle infrastrutture, circa un miliardo per tutti i porti italiani, l'autorità portuale del sistema campano ha chiesto circa 20 milioni per il restauro degli ex magazzini generali. Allora, su queste due importanti opere, l'Immacolatella sta per concludersi, e però anche su questo se lei può dirci quale sarà la destinazione una volta terminati i lavori. Sul Beverello e sui magazzini generali, quali sono le prospettive a breve? Io direi un tema più generale riguardo il rapporto tra la parte occidentale del porto di Napoli, la città e il mare. È noto che l'autorità di Napoli aveva fatto una gara nel 2004 sull'intero progetto del waterfront e praticamente poi tutto era rimasto fermo, diciamocelo francamente, per l'opposizione di alcuni concessionari che considerano ancora oggi il porto di Napoli una sorta di dependenza privata, diciamo, delle loro pertinenze. E invece, superando una qualche resistenza ai svariati opposizioni, abbiamo cominciato i lavori per la costruzione della nuova stazione marittima al Beverello, che si è destinata ai collegamenti con l'Isola del Golfo. Lì, come spesso accade nei territori delle città storiche come Napoli, abbiamo trovato un muolo borbonico, si sta lavorando adesso con la sovrintendenza per includere il muolo borbonico all'interno del nuovo edificio della stazione marittima. Quindi i lavori riprenderanno ragionevolmente all'inizio d'anno nuovo e saranno destinati a durare all'incirca ancora un anno e mezzo. Se non si determinano altri ritrovamenti archeologici, cosa che credo di no, ma insomma, credo di no. Poi il progetto continuerà per ripristinare un rapporto con il centro storico della città anche con il risanamento degli ex magazzini generali, che saranno ovviamente restaurati e riportati al loro valore di edificio storico, così come abbiamo fatto per l'Immacolatella. L'Immacolatella sarà assegnata in concessione, per il momento abbiamo due proposte presentate dall'Università Partenope e dall'Università Federico II. Vedremo in queste settimane, nei prossimi mesi, quale sarà la proposta che è più convincente dal punto di vista della coerenza con ovviamente la marittimità che rappresenta il porto di Napoli e poi dopo ovviamente sarà assegnata. Quello che abbiamo deciso è che comunque quel luogo deve essere un luogo di cultura, quindi destinato a un rapporto diverso tra cultura, marittimità e città. Per tornare invece ai freni che abbiamo incontrato nel corso di questi anni, partiamo da un tema inevitabile ma sul quale bisogna fare una riflessione. I concessionari considerano il porto una proprietà privata, questo è un grave errore, il porto è una proprietà pubblica che deve essere assegnata mediante confronto competitivo per raggiungere obiettivi che sono stabiliti dalla normativa, sviluppo dei collegamenti marittimi, incremento degli investimenti, incremento dell'occupazione. Quindi avendo a cuore questi tre elementi poi bisogna scegliere quali sono le proposte più convincenti. La cultura del confronto competitivo non è una cultura che sta nella mentalità italiana. Quando si parla nei convegni tutti dicono che il mercato deve prevalere, quando si tratta di toccare gli interessi ovviamente il mercato diventa il nemico e l'obiettivo è quello di mantenere rendite di posizione, quindi c'è una sorta di feudalesimo portuale che ancora è prevalente e che deve essere superata. Se un porto diventa competitivo ed è capace di attirare nuovi operatori, quello è il porto che cresce. La logica nostra del dire che sono qua come concessionario da 80 anni è esattamente la logica che non si può concepire in un porto che vuole essere un porto del futuro. Nessun concessionario a Rotterdam o ad Alversa comincerebbe una discussione così, partendo dagli 80 anni nei quali sta presente nel porto. Ragionevolmente lì si pensa a quello che succede nel futuro, non a quello che è successo nel passato. Quindi i porti del passato resteranno nel passato, i porti del futuro andranno verso il futuro. Grazie. Io però vorrei, prima di chiudere la nostra intervista, noi comunque abbiamo i porti di Salerno e di Castellammare, che sono importanti ovviamente. Salerno, come lei diceva prima, sono partiti lavori importanti per il dragaggio, per la diga foranea, sono interventi in corso. La Galleria Porta Oves? È stata un'opera, è un'opera molto complessa. Quindi per quanto riguarda Salerno, a che punto siamo e qual è la prospettiva anche lì di medio termine? Di trasformazione, dico, del porto. Salerno, completato i dragaggi, che parliamo di pochi mesi, parliamo del marzo del 2021, e realizzato entro l'anno l'allungamento della diga foranea, raggiungerà un livello di competitività molto elevato. Per Salerno ci sono due altri punti importanti. C'è il percorso, che dobbiamo ancora seguire, di realizzazione del terminal multipiano per il traffico dell'automobile, un progetto del gruppo Grimaldi, hanno presentato una domanda pochi mesi fa, dobbiamo aspettare anche lì il parere della sua Intendenza, quindi siamo a questo punto, e del Comune di Salerno, ottenuti questi due pareri, poi ovviamente noi procederemo per consolidare un segmento di traffico che per il porto di Salerno è molto importante. Poi il porto di Salerno è un porto molto qualificato per la tostata del mare. Pensate che nell'ultimo triennio il porto di Salerno è cresciuto del 24% nel traffico per la tostata del mare, che invece è un punto di debolezza nel porto di Napoli, perché l'unico segmento di mercato nel porto di Napoli, prima della pandemia, ha registrato invece un segno meno, meno 7%. Anche qui, vi è una ragione specifica, il porto di Napoli è un porto poco aperto alla concorrenza, diciamo così, e sostanzialmente sono due le compagnie che operano sulle tostata del mare, GNV e Tirrenia. È noto che purtroppo Tirrenia è in una situazione di grave crisi, e quindi noi abbiamo, diciamo così, seguito la parabola discendente di Tirrenia. È ovvio che di buon senso aprire ad altri operatori le autostrade del mare per il porto di Napoli è una delle chiavi di lettura per garantire uno sviluppo. Anche qua però bisogna registrare che le resistenze all'apertura del mercato dell'autostrade del mare nel porto di Napoli sono state in questi anni radicali, perché ovviamente ci si accontenta di tutelare il segno meno invece di inseguire il segno più. E poi che il compito dell'autodità è quello di, diciamo, lavorare per il segno più, penso che occorrerà ancora insistere per aumentare il grado di concorrenza sulle tostrate del mare.